Con noi ai tempo, io vorrei dirvi, noi ci siamo occupati del caso di Cedric Torney, la guardia svizzera che è stata trovata riversa proprio nel suo sangue, in un appartamento e vicino a lui c'era il suo comandante cioè Alois Esterman, morto e accanto a Esterman c'era anche la moglie appunto di quest'ultimo, anche lei uccisa. E quindi tre corpi, l'inchiesta del Vaticano è stata fatta, è stata fatta velocemente e è stato deciso appunto attraverso questa inchiesta che c'è stato un raptus di follia da parte del giovane Cedric, un raptus di follia e lui aveva praticamente ucciso il suo comandante e poi la moglie e poi si era suicidato. Però la madre di Cedric non è convinta di questo, anzi dice che le indagini, l'inchiesta Vaticano è stata fatta, svolta troppo in fretta, ha iniziato una battaglia, una vera e propria battaglia perché dice io per me la verità è una cosa diversa. Allora, che cosa abbiamo scoperto tra l'altro tra le varie cose inquietanti di questo caso? Che la mamma arriva a Roma, parla con un giudice, cioè con una persona che gli dice sono il giudice unico del Vaticano. Lei ci parla addirittura per più di due ore, gli racconta tantissime cose, dopodiché conoscerà il vero giudice unico del Vaticano. Quindi non si capisce se in realtà ha parlato con un giudice falso. Allora, vediamo che cosa ha trovato Fiore De Rienzo, collabora al caso Vittoria Polato. Erano diversi giorni che Muget Baudà non parlava al telefono con suo figlio Cedric. Da quando era tornato da un viaggio alle isole Maurizios insieme alla sorella Melinda, l'11 aprile, era stato molto occupato. C'erano i preparativi per la festa del giuramento delle nuove reclute. Cedric era vice caporale, un grado che nel corpo delle guardie svizzere corrisponde a quello di sergente maggiore nell'esercito elvetico. Molte responsabilità, molti impegni. Poi stava preparando il terreno per gli incontri che avrebbe avuto un mese dopo in Svizzera durante le ferie, una serie di colloqui di lavoro per quando avrebbe lasciato Roma, a novembre. Il 4 maggio 1998, intorno alle due e mezza del pomeriggio, Muget chiamò suo figlio al cellulare. Stracontento di sentirmi dopo più di una settimana. Era felice, mi ha spiegato che aveva molto lavoro. Era veramente calmo, riposato. Sì, era veramente felice. Ci ho parlato per mezz'ora, dalle 2.35 alle 3.05. Allora mi dice, sai la novità? Dico, quale è la novità? E lui, il signor Esterman diventa comandante. E allora dico, perché mi dice che è una novità? L'ho visto in un giornale ieri ed è da quando è andato via il signor Bux che deve diventare comandante. Per me non è una novità. Allora mi ha detto, con lui comandante sono sicuro, le cose andranno male, perché non è possibile. E io, senti, tu fai il tuo lavoro, tanto hai deciso di andartene, di andare via. Perciò non è grave. E a questo punto gli chiedo della medaglia. E allora, questa medaglia, pensi di averla? E lui mi dice, non lo so, penso di no, perché da dicembre era sicuro di non averla più. E ha detto, comunque per me non ha più importanza. E così ci siamo detti ti amo, come ogni volta. Abbiamo detto tutto quello che avevamo da dirci. Ti amo e poi... E poi è l'ultima parola che mi resta di Cedric. Questo ti amo. Sui rapporti di Cedric con il comandante Esterman, sulla medaglia negata, su altri aspetti, torneremo dopo. Continuiamo con il racconto di Muguet, da quando le 10.30 di sera, chiamata dalla figlia Sara, torna a casa e la trova piena di gente. C'era gente, il parroco, che mi dà la notizia. Io mi sono detta, non è possibile. E poi, quando ho accusato lo shock, perché ho accusato lo shock guardando le mie due figlie, guardando i loro volti, ho capito che era vero. La persona davanti a me lo diceva, ma io pensavo, non è possibile. Perché mi hanno detto che si era suicidato e questo per me era... Per chi si suicida? Ci ho parlato oggi, era allegro e si suicida. Poi mi sono seduta e mi è stato detto, non è tutto. Prima di suicidarsi ho ucciso due persone. Era... Era allucinante. Era un film alla televisione. Poi si è discusso. Ho capito. Ci ho creduto. Ho provato a riflettere. Ma non ci riuscivo, era tutto bianco. L'indomani, siccome avevo detto che ci volevo andare, mi telefona il cappellano della guardia e gli dico, io vengo a Roma. E lui? No, no, non c'è bisogno che veniate a Roma. Facciamo tutto noi. Io ho detto, no, vengo. Poi mi telefona un po' più tardi e mi dice, senta, non è il caso perché Cedric si è sparato alla testa e ha la testa che esplosa. Io gli ho detto, non ho bisogno della testa per riconoscere mio figlio. Allora, io vengo a Roma. E lui? Aspetti, la richiamo. Ha richiamato forse un'ora dopo. Senta, non va bene perché il suo corpo è decomposto. Gli ho detto, ora basta. Siete a Roma. Non avete frigoriferi a Roma. Siamo a maggio. Non c'è la canicola. Un corpo non si decompone 24 ore. C'è un'altra cosa che mi ha scioccato. Quando sono arrivata dalla Svizzera, mi hanno portato alla camera ardente. Cedric era veramente bello, sorrideva, aveva un sorriso, una calma, ma era indivisa da guardia, indivisa da cerimonia. Era coricato, le mani in basso, con il suo copricapo. Mi sono detta, è una posa militare, con una divisa di gala. Non so se è vero, ma so che una volta, se una guardia se ne andava prima del tempo, bruciavano la sua divisa nel cortile, perché aveva rinnegato la sua religione, rinnegato il Santo Padre e rinnegato il suo giuramento. E qui c'è un ragazzo che uccide due persone, cioè il suo comandante e la moglie, e si suicida. E poi, lo vedete indivisa di gala con onori militari. E in seguito, quando si fa la cerimonia a Sant'Anna, c'erano là almeno 30 preti. Anche questo sorprende Muguet. 30 preti per un suicida, che per giunta ha ucciso due persone, proprio lì, in Vaticano. Ma non basta. Un monsignore le fa una proposta. Ok. La proposta di cremare Cedric. Mi dicono, perché capisce, così lei ritorna con lui, tiene l'urna sulle ginocchia, sull'aereo, rientrate insieme. Io ho detto sì. Un po' sotto shock, ho detto sì. Tutto ad un tratto mi sono vista con la mia piccola urna. Le mie figlie che mi vengono incontro. E io avrei dovuto dire, ti ho detto a mio fratello. Non potevo. Già non avevano potuto dire rivederci al loro fratello. Avremmo voluto fare delle foto a Cedric e ci hanno detto, ma no, abbiamo già fatto tutto, ve le daremo. Ancora una volta ho obbedito. E non le ho potute dare alle sorelle. In più, dare loro una scatoletta e dire, questo è tuo fratello. Non potevo fare questo alle mie figlie, non è possibile. Allora di colpo ho detto, no, no, così non va. Dopo la cerimonia siamo andati dal giudice Marrone per riconoscere la lettera di Cedric, che mi aveva lasciato. Il giudice mi dà la lettera. E io guardo la lettera e dico, non è di Cedric questa lettera. E lui mi dice, ma sì, è la lettera che Cedric ci ha dato. Dunque io vado per riconoscere questa lettera. No, non posso firmare. Perché mi chiedono semplicemente di firmare che riconosco la lettera di Cedric. Allora io dico, no, io non posso firmare, questa lettera non è di Cedric. A questo punto, ed è molto importante, faccio una dichiarazione spontanea. Così si chiama. Cioè, per due ore e cinquantacinque, ero andata per due minuti e sono rimasta per due ore e cinquantacinque. Ho spiegato tutto questo al giudice Marrone. Muget spiega. Tutti i suoi dubbi, tutte le dissonanze, fa nomi, confida cose sapute da Cedric, cose delicate, come un presunto tentativo di proselitismo da parte dell'Opus Dei all'interno del corpo, lo strano atteggiamento di un falso prete, Ivan Bertorello, che le aveva confidato tra le lacrime di avere le prove che Cedric era stato ucciso. Liberamente. Senza riserve, dice tutto all'uomo presentatole come il giudice unico vaticano Gianluigi Marrone. Ho saputo un anno e mezzo dopo che la persona che avevo avuto di fronte non era il giudice Marrone. Sono sicura perché ho avuto un incontro col giudice Marrone e ho detto, no, lei non è il giudice Marrone, il giudice Marrone io lo conosco, l'ho incontrato. E allora il giudice Marrone mi dice, io sono il giudice Marrone. E allora chi è la persona che ho incontrato? Chi si è fatto passare per lei? Il mio avvocato mi dice, ma senta, via... No, è importante, perché ho creduto di parlare ad un giudice che si chiamava Marrone. E se è lei? Voglio che lei mi dica davanti al mio avvocato che il giudice che ho incontrato non è lei. Perché è molto tempo che mi trattano da pazza. Non voglio più. A quel punto il giudice Marrone ha dovuto dire al mio avvocato, sì, è vero, ha ragione, non sono io che l'ho ricevuta. Ad oggi non so ancora chi è che mi ha ricevuta e chi ha preso la mia testimonianza di due ore e cinquantacinque minuti. Chi è? Non lo so. Ho cercato, con gente che conosco, di descriverlo per trovare un nome. Lo riconoscerei certamente, non so ancora chi sia. Questa mamma che non si dà pace si è rivolta alle autorità svizzere e ha chiesto alle autorità svizzere, visto che il figlio appunto è un cittadino svizzero, di riprendere in mano le indagini. Quali sono, secondo lei, i punti oscuri di quella che fu l'inchiesta portata avanti dal Vaticano? Vediamoli sempre con Fiore Terienzo, con l'Albora Vittoria Polà. Con l'aiuto di Luc Brossolet, avvocato di Muget Bodà, la madre di Cedric, di un esperto balistico della polizia svizzera e di una ex guardia svizzera, di un commilitone di Cedric, proviamo ad esaminare alcuni degli elementi che sono alla base della versione vaticana su come si sono svolti i fatti la sera del 4 maggio 1998. Ricordate? Si disse che il vice caporale Cedric Tornè, in un raptus di follia, era andato a casa di Alois Esterman, il suo comandante. Lo aveva ucciso con due colpi di pistola, con un colpo la moglie, Gladys Mezzaromero, poi si era inginocchiato suicidandosi con un colpo in bocca. Vi abbiamo già parlato delle contradduzioni fatte dagli esperti consultati da Muget Bodà, a seguito di un'autopsia da lei fatta eseguire in Svizzera. Controdeduzioni che suggeriscono un'altra dinamica. Parliamo adesso del proiettile che avrebbe ucciso Cedric, proiettile che fu consegnato alla madre. È molto strano perché è un elemento di prova, che deve essere sottoposto ad esami e che non si consegna a qualcuno che non è nel procedimento. Dunque già c'è qualcosa di molto singolare, ma sorvoliamo. È un proiettile che dovrebbe aver attraversato l'osso cranico per poi impattare nel soffitto, come è stato detto. Sentiamo Massimo Passamonte della Polizia Scientifica del Canton Ticino. Questo vediamo che è un proiettile che ha attraversato un corpo, ha colpito delle ossa, e quindi vediamo sulla sommità dell'ogiva, vediamo che si sono prodotte delle striature, appunto causate dallo sfregamento contro dei materiali duri, tipo appunto delle ossa, ipoteticamente dovrebbe rassomigliare di più a questo caso. Questo infatti è un proiettile che ha trapassato una vittima e ha avuto un impatto contro un soffitto e poi è stato ritrovato in terra. Quel proiettile lì sembra un proiettile di quelli che noi spariamo di prova nei tunnel, nella lana, e quindi il proiettile resta completamente integro e si vedono unicamente quelli che sono i segni della rigatura della canna dell'arma. Perché il Vaticano ha ricostruito? Non ci sono testimoni. Perché? Il Vaticano non è un indovino. Come può inventare che Cedric era in ginocchio e si spara in questa posizione che comunque non è una posizione normale per suicidarsi così? Perché c'è la traccia di un colpo sul soffitto. Un proiettile che ha colpito il soffitto ed è ricaduto a destra dell'impatto. E si è detto è sicuramente questo proiettile che ha ucciso Cedric. Perché? Perché? Allora, siccome Cedric non si è suicidato nel modo in cui ci si suicida con una pistola in piedi o seduto non importa, ma con la fine dell'arma appoggiata al palato e il proiettile che esce va al soffitto. Questo è il caso classico. Allora, siccome è uscito dalla base del cranio, si è detto lui aveva la testa piegata in avanti che spiega come il proiettile si è arrivato al soffitto. Ma questo è dilettantismo. Un altro particolare strano riguarda l'orologio di Cedric. È l'orologio che portava la sera del dramma e questo orologio, come potete constatare, è rotto. È un bracciale elastico che normalmente non si rompe e bisogna tirare veramente forte. Cedric ha l'orologio. Nella tesi ufficiale cade in terra. Nel cadere, non da in piedi ma da in ginocchiato, l'orologio si rompe. Non ci credo. Non ci credo. Penso si può essere rotto per altre ragioni. Dopo che è stato stordito, Cedric, può darsi che abbiano legato le mani dietro la schiena e al momento di scioglierlo, per fare la messa in scena, hanno tirato la corda e questa che si era impigliata nell'orologio forse lo ha rotto. Comunque non ho spiegazioni. Non ho letto spiegazioni su questo orologio nella tesi ufficiale. Ed ecco che avete un'altra domanda. Ma ce ne sono 200, 300 altre domande che possono essere fatte in una nuova inchiesta. Come questa domanda. Si possono uccidere due persone, suicidarsi per questa medaglia, la Benemerenti? Nella lettera di Cedric è scritto quest'anno io dovevo ricevere la Benemerenti e il tenente colonnello me l'ha rifiutata. Dopo tre anni, sei mesi e sei giorni passati qui a sopportare tutte le ingiustizie, la sola cosa che volevo me l'hanno rifiutata. È quasi la dichiarazione del movente, fatta da Cedric Tornè, promosso vice caporale solo otto mesi prima. Otto mesi prima della morte. Otto mesi prima che di lui, la versione ufficiale del Vaticano, parlasse di raptus di follia in un soggetto con gravi turbe psichiche, indisciplinato, dedito al consumo di cannabis. È successo qualcosa di particolare, qualcosa di strano. Perché il comando o il Vaticano non dà un grado a una persona e poi pochi mesi dopo dice è un drogato e per drogato non intendono che fuma spinelli una persona che si droga, alcolizzato, psicolabile, aggressivo e chi più ne ha più ne metta. Il grado ha in principio più valore di una medaglia. La regola era che chi diventava o riceveva un grado nello stesso anno non poteva ricevere una medaglia. Perché in un certo senso il grado era una medaglia, era una una gratifica, una conferma che diceva è stato una brava guardia o è stato un bravo o è un bravo sotto ufficiale per esempio. Esterman non aveva, non era lui che decideva di dare o non dare le medaglie. Il signor Esterman avrebbe potuto dire non merita una medaglia, poteva dare un parere. Ma trovo grave che si dia questa responsabilità al signor Esterman visto che non l'aveva questa responsabilità poteva dare il suo parere dicendo sì o no o aspettate ma non è lui che ha preso la decisione e questo è vero. Ma tra le cose dette sul conto di suo figlio su una soprattutto Muget vuole dire qualcosa. Questo è Cedric che lo ha fatto. Questa follia di cui si dice intanto non è genetica non viene da parte della mamma ma è per dirvi la cura e questa precisione. La follia non permette una cosa così. La follia può fare dei bei quadri, può fare può far sviluppare un'arte ma non un'arte di precisione. Non è possibile. Pensate che questo pezzo è un blocco intero e in questo blocco intero una persona ritaglia scava perché questo cubo resti all'interno. Non c'è stato messo. Alla fine resta solo un piccolo frammento che viene tolto e questo è veramente sintomatico di una non follia.